In queste ore stiamo lavorando per aiutare le nostre imprese turistiche, il nostro comparto del turismo a ricevere entro l'estate turisti almeno dalle principali capitali europee, dai principali paesi europei. È un lavoro che ovviamente sta facendo in primis il Ministro Franceschini, noi come Ministero degli Esteri stiamo lavorando al coordinamento con gli altri paesi europei per promuovere la stagione turistica in Italia, far venire i cittadini europei in Italia. Ho appena concluso una riunione importante promossa proprio dalla Germania insieme a noi, al Portogallo, alla Spagna, all'Austria, alla Slovenia, alla Croazia, a Malta, a Cipro e abbiamo stabilito stamattina che lavoreremo tutti quanti insieme per affrontare questa stagione turistica, non ci saranno corridoi turistici creati sulla base di accordi bilaterali, questo non è accettabile contro lo spirito europeo se siamo nel mercato unico, se c'è la libertà di circolazione e allora superata questa prima fase della pandemia, adesso tutti i paesi devono riaprire i confini, dobbiamo condividere le regole per far viaggiare in sicurezza i turisti durante questa stagione turistica estiva e dobbiamo lavorare affinché i nostri imprenditori, i nostri ristoratori, i nostri albergatori possano avere l'opportunità non solo di accogliere turisti italiani, perché diciamocelo chiaramente questa estate deve essere l'estate in cui gli italiani aiutano il turismo italiano, ma sapete benissimo che ci sono tante strutture di alta gamma che in questo momento hanno bisogno anche del turismo straniero, una delle principali nazionalità che viene in vacanza in Italia sono proprio i turisti tedeschi e con il ministro Heiko Maas, il ministro degli esteri tedesco e con tutti gli altri ministri coinvolti stamattina abbiamo illustrato e spiegato quali sono le garanzie che dà l'Italia. Prima di tutto noi forniremo un aggiornamento settimanale dell'andamento epidemiologico regione per regione e questo aiuterà molto i tour operator a poter gestire i pacchetti di viaggio da capitali europei, da paesi europei verso l'Italia. La seconda cosa importante è che cancelleremo gli altri paesi europei da quelle che si chiamano liste di sconsiglio, cioè elimineremo e ci aspettiamo che gli altri paesi facciano lo stesso i paesi europei da le mete sconsigliate dall'unità di crisi del ministero degli esteri. Ovviamente ci aspettiamo reciprocità, ci aspettiamo che gli altri paesi europei cancellino l'Italia dalle liste di sconsiglio e su questo molti si sono già impegnati a farlo. E poi le prossime ore saranno anche quelle in cui procederemo sul lato bilaterale, sul fronte bilaterale. Sentirò alcuni ministri degli esteri che magari avevano ancora dubbi su quando fosse possibile muoversi all'interno delle regioni italiane e tra le regioni italiane. Gli spiegherò nei dettagli che noi dal 3 giugno ripartiamo dal 3 giugno, si apre anche la mobilità tra regioni e quindi da quella data non ha più senso avere dubbi sull'apertura o meno dei confini perché l'Italia è sempre stata aperta, ma ci aspettiamo anche dagli altri paesi a questo punto uno spirito europeo nel superare questa fase 1 e passare ad una vera fase 2 che è sì di convivenza col virus, è sì di massima sicurezza e attenzione alla salute delle persone, ma è anche favorire i flussi di persone all'interno dello spazio unico europeo e aiutare le nostre imprese. Quindi voglio dire ai tanti operatori turistici, ai tanti albergatori, ristoratori delle aree a grandi flussi turistici, tutti gli stabilimenti balneari, stiamo lavorando e ovviamente il Ministero degli Esteri darà il massimo supporto al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per gestire al meglio i flussi turistici quest'estate e cercare di attrarre più persone possibili in sicurezza nel più bel paese del mondo.